Franklin Templeton Investments presenta Finanza comportamentale per tutti gli investitori Creare consapevolezza su alcuni concetti per aiutarvi ad avere successo nei vostri investimenti di lungo periodo Lezione di oggi I pregiudizi legati al paese di origine Per comprendere cosa sono i pregiudizi legati al paese di origine parliamo dello sport più importante al mondo non questo sport Quello in cui si danno calcio al pallone il calcio Mentre le principali squadre dei vari paesi del mondo entrano in campo i fan si scaldano Fare il tifo per la squadra del proprio paese è un pregiudizio legato al paese di origine? Certamente E sostenere la propria squadra è la cosa giusta da fare anche quando non sempre vince Ma cosa succederebbe se poteste costruire la migliore squadra di calcio mondiale? Probabilmente scegliereste i migliori giocatori da tutto il mondo potreste persino avere un portiere americano I migliori giocatori di calcio provengono da molti paesi diversi non da uno solo Quindi cosa c'entra il calcio con gli investimenti? La realtà è che molti investitori sono come i tifosi di calcio che vengano dall'Algeria o dall'Argentina Sono propensi a investire nello stesso paese che chiamano casa ma in realtà le migliori società come i migliori giocatori provengono da paesi diversi Quindi quando elaborate una strategia per trovare il giusto mix di investimenti forse dovreste prendere in considerazione di aggiungere più giocatori internazionali Quindi, come iniziare? In Franklin Templeton crediamo che avvalersi della professionalità di un consulente finanziario sia uno dei modi migliori per espandere il proprio orizzonte di investimento e costruire un buon portafoglio